con l'agricione indice non fa in su in giù bravo alzati abbassati beccati questa add shot visto questo? morto 1 2 è andato a finire che fa ciao e sono non c'è un county no non è in giù bravo … si mi c'è un c'è un po' l'agricione 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 il morto, ok, dobbiamo recuperare le varie fecce, la carne, c'è la pelle, oh guarda che salto continuiamo, finendo le paura dei nemici, headshot, no, per posto, eccolo, headshot, eh, ci vai a curvo andati, guarda, grazie, rispondi, guarda, grazie, rispondi, è una ragazza, rispondi, è un bel Grazie a tutti